Carissimi amici è arrivato PaninoTube e oggi siamo su DOP4 Il gioco dove noi dobbiamo disegnare per vincere Ma non solo oggi voglio pure parlarvi di qualcosa Infatti il titolo che voi vedete non è clickbait Perché vi devo parlare di una cosa molto molto importante Ma nel frattempo giochiamo pure a DOP4 no? Quindi due cose in un unico video Allora quindi vabbè innanzitutto lasciate qui sotto tantissimi like per aiutarmi a supportare il canale E se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale Attivate la camperellina E adesso cominciamo subito qua Partiamo subito con questo gioco E in contemporanea vi dico quello che vi devo dire Perché sarà una cosa molto molto importante Innanzitutto vi dico prima cosa Una bella notizia Da questa settimana torneranno i video su PaninoTube, Horror Plus Il terzo canale Se non siete ancora iscritti trovate qui sotto in descrizione il link del canale Mi raccomando andatevi ad iscrivere perché da questa settimana torneranno i video lì Però ci sarà anche una brutta notizia che vi racconterò durante il video no? Nel frattempo facciamo qua livello 1 Disegniamo qua la gamba alla sediolina Siiii! Livello superato, superato In questo gioco dobbiamo completare il disegno per vincere Un po' come su Just Draw Il problema però è che su Just Draw il gioco era difficile Cioè bisognava sclerare per vincere Altro che disegnare Lì mi ricordo che ho fatto certi scleri che non dimenticherò mai Allora facciamo qua l'interno della ciambella Completiamo qua il livello 2 Si prosegue Ma qui c'è il nonnetto C'è il nonnetto che è tutto quanto arrabbiato no? Perché la televisione è spenta Manca la corrente E che facciamo qua? E mettiamogliela no? Mettiamo qua la corrente Perfetto Oh nonnetto E non essere arrabbiato Non essere arrabbiato Ti stai divertendo E per il momento scusate Siamo a livello 3 Ancora non posso dire se mi sto divertendo oppure no Andiamo avanti No Il povero orsacchiotto Gli manca la zampa Manca la zampa al povero orsacchiotto E disegniamogliela Disegniamola Mi raccomando Un like per il povero orsacchiotto Che era rimasto senza zampa E andiamo qua Livello 5 No vabbè Ma che scena è questa? Ma che scena è? Ma c'è l'amichetto che deve surfare qua Ma Manca la tavola da surf E come fa a fare surf senza tavola? Ma soprattutto Come fa a stare in piedi in acqua? Come fa a camminare sull'acqua in quel modo? Cioè io affonderei subito Più Cadre in sott'acqua Come fa lui? E vabbè Disegniamogli sta bella tavola Ed eccolo qua Il nostro amichetto Tutto quanto bello Contento e felice Ok Livello 6 Livello 6 Allora Siete contenti per il ritorno del terzo canale? Mamma mia Ho veramente un sacco di idee da portare Ho già registrato alcuni video Tra l'altro Che purtroppo non sono riuscito a pubblicare in questi giorni Ma tenetevi pronti Perché saranno video molto divertenti Ho veramente tante idee Il ritorno Delle app Delle chiamate con i personaggi horror Le storie horror dei personaggi Infatti ne ho una dedicata ad Ice Cream Molto molto bella Molto interessante Anche i gameplay horror come piacevano a voi Anche se la maggior parte in realtà saranno sempre sul canale principale Però non è detto che io non posso fare qualche gameplay divertente horror Di alcuni giochi particolari Che non ho mai portato sul canale principale Ce ne so veramente un sacco Ci sono tantissimi giochi Molto belli Che volevo portarvi Già da molto tempo Ma torniamo qua nel gioco Su DOP 4 Livello 6 Mamma mia Fare due cose In contemporanea Nello stesso video Non mi è mai successo Veramente Lasciate un like sotto questo video Per Per il supporto Dai insomma Un video dove faccio due cose in contemporanea Ma quando succederà Ma proprio in contemporanea Non è che dite Bo prima faccio una cosa E poi l'altra Mentre faccio sto gioco Vi sto pure parlando del fatto che vi devo parlare Delle cose molto molto importanti Ok completiamo qua la testa dell'amichetto zombie No il cervello E gli mancava il cervello Questi erano zombie senza cervello Era senza cervello Adesso è diventato intelligente No infatti si è messo pure a leggere Buona lettura amichetto zombie Buona lettura E qui c'è un mio collega C'è un mio collega Un panino Uno dog Uno dog qua Ma amichetto dog Come stai Come stai Il panino tube Che finalmente incontra lo dog Che gli devo fare tra l'altro qua No no seriamente Cosa Forse devo disegnare qualcosa qui No Che devo fare qua Ah E ditemelo prima No che andava messo La salsa e il ketchup Ditemelo prima E qui c'è l'amichetta Che si vuole specchiare Però c'è un piccolo problemino Manca lo specchio E non c'è lo specchio Come fa a specchiarsi Sopra una cosa di legno Va lì Che non riflette neanche se Non lo so Ci illumino le luci Le lampade Manco fossimo in un programma Televisivo Come pomeriggio 5 Non so Vi faccia una roba Ma no Ma dai Ma io ci sono rimasto male Perché Ma perché Vabbè Il disegno è così C'è un amichetto Che si voleva provare La parrucca Forse voleva fare Qualche scherzo a qualcuno Va bene Dai Livello 10 Dobbiamo fare quello Ispirapolvere Mi manca il tubo Quanto pare qui Ho completato così Sì vabbè Ma io gli ho fatto un filo Altro che tubo Un filo gli avevo fatto E cosa ci aspira Con un filo Ma neanche L'aria del mondo Più areggiato del mondo Ci entrerebbe Ma che roba Allora Livello 11 Adesso invece Vi devo parlare Della brutta notizia Perché ci sarà Anche una brutta notizia Allora Riguardo principalmente Questo canale Su panino tube optional C'è un piccolo problema No Ultimamente Come potete Ben vedere anche dai video Io mi sto più divertendo A fare video Sui giochi horror Rispetto a video Su giochi non horror Come ad esempio Vabbè Lo sapete quali sono I giochi non horror Che ho portato Vi basta aprire Panino tube optional E li vedete Infatti Voi iniziate a fare Anche qualche video horror Su questo canale Su panino tube optional C'è però un piccolo Problemino Che ho riscontrato Che la maggior parte Di quelli che guardano I video horror Non sono iscritti Su questo canale Sono iscritti Sugli altri canali Quindi su panino tube E panino tube horror plus C'è la maggior parte Di quelli che sono iscritti qua Sono qui per vedere Video non horror E però C'è sempre un altro problema A me ultimamente Stanno piacendo Principalmente gli horror Infatti Volevo portarli qua Volevo provare a farli qua Ma non è che Alla fine ho visto Che c'era tanto interesse Ho provato ad esempio Con ice cream Vi ho portato il mega confronto Degli ultimi tre capitoli Ho pure provato Con qualche clone Di poppy playtime Anche se in realtà Quelli che vi ho portato Non erano horror Però comunque Molti non l'hanno aperto Perché pensavano Che fossero dei video horror E quindi non li hanno voluti aprire Vabbè C'è stato potuto Uno vede poppy playtime Aghi wagi Con personaggio horror Pensa di vedere Un horror davanti E invece questo Non c'è stato Quindi anche per questo motivo Ho deciso di tornare Principalmente Anche sul terzo canale Perché lì posso portare Tutto l'horror che voglio Cioè quello lì Era un canale nato Per portare proprio l'horror A 360 gradi Quindi non soltanto Giochi horror Come faccio sul principale Anche video reaction horror Oppure chat horror Chiamate horror Insomma Vabbè Lo sapete Quello che facevo lì Su panino tipo horror plus E ho veramente Tante idee che vorrei portare In contemporanea Invece Ho poche idee Per questo canale No seriamente Io arrivo Che alcune volte Non so più Che cosa fare qua Non so più Che gioco portare Perché non ci sono Proprio giochi Non è che dite Boh Non so perché Non ho creatività Non ci sono giochi da fare Cioè giochi interessanti Ci sono soltanto Cloni su cloni Ma vabbè Ma adesso La seconda parte Ve la farò più tardi Torniamo qua su Dope 4 Completiamo il livello 11 E facciamo qua La pallina di Natale Che è rimasta Bella appesa Sì No l'amichetto cervo Gli manca un corno Di sopra E glielo facciamo qua Gli disegniamo qua Il corno che gli manca Così Vabbè E contento così amichetto Contento così Livello 13 Ma cosa Ma è bellissima Sta scena Ma che roba Ma che roba No Ho trovato qua La cosa Che devo fare Ah gli devo forse Disegnare qua No No si è salvata Lì l'amante si è salvato Quello che era Livello 14 Il biscottino È stato mangiato È stato mangiato C'è un problemino Che col biscottino mangiato Io non posso più servirlo A tavola Che faccio Servo a tavola Agli ospiti Un biscotto mangiato E non si può fare E non è educazione Questo E quindi Allora con la bacchetta Del dito magico Voilà Sì Il biscotto È tornato sul piatto È tornato sul piatto Vai No Il povero amichetto Si è macchiato la mano Ma io gliela Copro così Ci metto un bel cerotto sopra Ed è tutto quanto a posto Sì che poi in realtà Non si è macchiato Ma vi ricordo Che siamo su youtube Quindi ho certe cose Meglio che non le dica Non posso dirle Ok livello 16 C'è un razzo Ma c'è un piccolo problemino Non c'è La propulsione accesa È spento È spento Sto coso Andrà così Per l'eternità A caso Per lo spazio Attiviamo i motori Accendiamo i motori E gli facciamo la fiamma Della propulsione Sì Livello superato Completato E qui c'è l'amichetto vichingo Che deve saltare E prendere le monetine Ecco Scusa Non è per dire Provo a fare così In questo modo Ok Sì Ha saltato Ma cosa Sembra un videogioco Quelli dove bisogna saltare Tra una piattaforma e l'altra E prendere le monetine L'avocado Abbiamo qua Un avocado vuoto E ora non più Ora non più Non è più vuoto E adesso livello 19 I denti tutti storti Ma scusa amichetto Ma che denti ha Tra l'altro Soltanto da un lato Ci sono i denti Soltanto da un lato E gli altri denti Che fino hanno fatto Che devo fare qua Tra l'altro Ah ok L'apparecchio Ci ho disegnato un apparecchio Non avevo capito Che cosa bisognava fare Bisognava andare Vabbè Non avevo capito Cosa bisognava fare Ecco Ce la posso fare A parlare come si deve Ce la posso fare Panino Puoi farcela A parlare come si deve Un ufo Un ufo Che si vuole rapire una mucca E aiutiamo la povera mucca Così Vabbè La ucca viene Ma perché Nelle scene degli ufo Sempre queste mucche Vengono rapite Ma anche su dark riddle Perché andavano a rapire Le mucche Ma perché Ma il senso di tutto ciò Cosa ci devono fare Gli alieni con le mucche Perché proprio le mucche Con tutti quanti Gli animali che esistono Qua proprio le mucche Ma insomma Ma seriamente Ma adesso invece Passiamo qua All'altra parte Sempre negativa Di quello che volevo portare Perché Allora sì è vero Io ho tante idee Per quanto riguarda Il canale panino Tube horror plus Ma poche idee Per quanto riguarda qua Perché non c'è tanto da fare No seriamente Non so più che cosa portare Perché non trovo nulla C'è pure un piccolo problemino Che sta affliggendo questo canale In questo ultimo periodo Nel senso che Io quando pubblico un video Quel video Non arriva a nessuno No no seriamente Io pubblico il video C'è proprio un bug Su questo canale Infatti in questi giorni Contatto pure l'assistenza No perché Non è normale Che io pubblico un video E questo video Non arriva a nessuno Molti infatti Mi stanno chiedendo Panino Ma perché non sto più facendo video Sul secondo canale Io li ho sempre fatti Però youtube Non li sta più Mandando a molti di voi Non arrivano più Nella home page Quando voi aprite youtube No c'è tipo una home page No La prima pagina Ecco I video di questo canale Non compaiono su quella pagina Così per qualche strano motivo Non arrivano neanche Fra i consigliati Io Prima tra i video consigliati Faccio un sacco di visual I miei video finivano Molto spesso Nei video consigliati Adesso ne faccio tipo Due o tre visual Tra i consigliati Prima ne facevo tipo Cinquemila Diecimila Tra i consigliati Adesso due o tre Ma c'è qualcosa che non va C'è veramente qualcosa che non va C'è proprio una sorta di Come posso dire Una sorta di shadow ban Su questo canale Come se i video di questo canale Non dovessero proprio essere visti da nessuno Come se youtube Avesse messo un blocco su questo canale Non lo so Io la vedo più come un blocco Però Non è normale Che io quando pubblico un video Sto video non arriva quasi a nessuno Non è per nulla normale Quindi anche per questo motivo Ho deciso che I video horror Non li faccio più su questo canale Ma li faccio direttamente su horror plus Perché lì non c'è questo problema Lì faccio un video Quel video poi viene spinto dall'algoritmo In base a alcuni fattori Alcuni valori Cioè molto probabilmente Io farò più visual Con il terzo canale Che con questo Ma di tante Ne farò molto di più Rispetto a quello che potrei fare qua Quindi anche per questo motivo Che qua su panino tipo optional Da questo momento in poi Ci saranno molti meno video Questo si può dire che Non è proprio l'ultimo video Ma sarà Diciamo una sorta Mi prendo una sorta di Quasi pausa Chiamiamola così Quindi sì è vero Torneranno i video sul terzo canale Ma Per un po' di tempo Non ci saranno più video qua Questo perché Voglio prima risolvere Questo problema Dei video Che non arrivano a nessuno Cioè non ha senso fare un video Se per YouTube Non me lo manda nessuno Seconda cosa Adesso attualmente Io ho la mente più concentrata Per l'horror Quindi tanto male Se proprio devo fare dei video Che mi piace fare Preferisco farli Sui canali horror Perché mi sta piacendo di più Il settore dell'horror Questi qua sono le due cose Quindi Direi di completare qua Quest'ultimo livello Livello 22 Adesso fai qua Sta foglie del quadrifoglio Ma Scusa Ma ce la fai Ma ce la fai Oh Ma Ma seriamente Ma che Che problema ha Ma che cosa gli affligge Ma tre ore Per fare una foglia Di un quadrifoglio Cioè ho disegnato di tutto Disegnato il mondo A momenti Ho disegnato pure una nave da crociera E non mi prendevo Una foglia di un quadrifoglio Ma che roba Ma che roba E quindi Con l'amichetto qua Che si sta facendo i muscoli Per ricapitolare Per concludere Torneranno i video sul terzo canale Questa settimana Probabilmente già domani Ci sarà un video sul terzo canale PaninoTube Horror Plus Su questo secondo canale PaninoTube Optional Mi prenderò una pausa Per risolvere alcuni problemi Anche per cercare argomenti Da portare Porterò comunque Di tanto in tanto Dei video chiacchierecci Quindi non lo sto chiudendo Ok Non sto chiudendo questo canale Ma Penso che per il momento Lo dedicherò principalmente Per i video chiacchierecci Quando ho qualcosa da dire Se no non ho nulla da dire Qua non ci saranno video Per Boh Appena troverò qualcosa da fare Piuttosto che fare dei video a caso Preferisco organizzarmi In questo modo Video tutti i giorni Sul canale principale Due video al giorno Come sempre E lì non cambia nulla Video quasi tutti i giorni Sul terzo canale E poi su questo secondo canale Video chiacchierecci Quando ho qualcosa da dire Magari potrei fare anche Qualche video chiacchiereccio Per aggiornarvi No Sulla situazione Perché adesso in questi giorni Contatto pure l'assistenza Per cercare di risolvere Questo problema E pian piano Vi aggiornerò Su tutto quanto Quello che potrebbe succedere Quindi che dire Il video finisce qua Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spollicciate Se vi siete iscriviti al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre vi auguro Buona giornata 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 Buona giornata